ciao a tutti un caloroso benvenuto ai colleghi ubi che si apprestano ad entrare in biper da giovanni gaudenzi che sono io di ravenna della segreteria fisac cgl di gruppo ciao ancora ciao sono antonio sono un vostro nuovo collega provengo da ubi certamente non non saranno momenti ne facili e ne semplici speriamo che passino la svelta e da lì in poi cercheremo dovremo ridare dignità al nostro lavoro e qualità la nostra vita grazie ciao ciao da cagliari sono un collega del banco di sardegna sono alessandro volevo salutare tutti i colleghi di ubi che stanno per entrare sarà un momento molto complicato sarà un po dura ma non siete soli non sarete soli assolutamente un abbraccio e benvenuti ciao sono marco della fisac del piemonte da bra vorrei dare un benvenuto alle donne agli uomini di ubiche sono già una parte di noi e noi siamo qui per tutti voi per tutto e per tutti benvenuti ciao sono gloria una collega del banco di sardegna in bocca al lupo per la conversion week e benvenuti nel gruppo ciao a tutti io sono laura ugualini e sono rsa del comune di ravenna sarà un periodo sicuramente molto complicato però voglio crederci che davvero ne vala la pena per tutti e vi aspettiamo carichi mi raccomando e quindi benvenuti ciao finalmente dei nuovi compagni mi raccomando allineatevi subito per tutto il resto c'è la fisac cgl sono nicola segreteria di gruppo biper fisac cgl un saluto a te compagna che entri un saluto a te compagno che entri nel gruppo probabilmente non andrà tutto bene sicuramente non ti annoierai benvenuto ciao a tutti sono gianna volevo darvi il benvenuto in biper e dirvi che se vi sembrerò di essere tornati indietro di 30 anni beh non sempre un male ciao a tutti ciao a tutti